Forse non conoscete il nome New Science, ma sicuramente conoscete Cell Food. Da 55 anni, Cell Food è l'integratore nutrizionale antiossidante a base di ossigeno più venduto al mondo. Oggi abbiamo l'opportunità esclusiva per dare uno sguardo a questo colosso biotecnologico a nord di Los Angeles. Questa è la sede di ricerca e produzione di Cell Food. Per la prima volta in assoluto, le nostre telecamere possono entrare in questa struttura riservata. Sono Kit Semmy e ci guiderà nella visita il presidente dell'azienda, Kevin Negrete. Grazie per averci concesso questa intervista e questa visita alla New Science Corporation. Ma perché proprio ora? Abbiamo ricevuto richieste dai media per oltre 15 anni e questa concessione coincide con l'inaugurazione del nostro nuovo laboratorio. Questa struttura è straordinaria. Per la prima volta, questo laboratorio produce 250 bottiglie di Cell Food ogni singolo minuto, tutti i giorni. È incredibile. Oltre a progettare questo nuovo impianto di produzione ad alta velocità, abbiamo anche introdotto punti di controllo di qualità specifici che garantiscono il 100% di accuratezza nel processo. È una novità assoluta per il nostro settore e ne siamo davvero entusiasti. I nostri macchinari sono stati realizzati a mano in Italia e sono tra i macchinari più eleganti che si possano vedere nel settore. Può raccontarci qualcosa di più sul processo con questi nuovi macchinari? I controlli di qualità che abbiamo implementato sono unici e senza precedenti. È la prima volta che vediamo qualcosa del genere. Utilizziamo strumenti come i laser a infrarossi che rilevano i componenti aggiunti a ogni prodotto. Usiamo le bilance di precisione per misurare il peso e il volume del prodotto. E ci sono strumenti davvero interessanti, come una macchina a raggi X che verifica che il liquido sia riempito correttamente dentro ogni bottiglia. Usiamo una tecnologia di ultima generazione di cui siamo molto, molto orgogliosi. Come si confronta la produzione attuale grazie ai nuovi macchinari con i numeri precedenti? Siamo cresciuti molto come organizzazione. Il nostro primo laboratorio, aperto molti anni fa, produceva circa 10-15 flaconi al minuto. Era una tecnologia abbastanza semplice all'epoca. Poi siamo passati al nostro primo grande impianto di produzione, dove producevamo circa 75 flaconi al minuto. Ora siamo passati a 250 flaconi al minuto. Un passaggio straordinario. Molte aziende hanno ridotto le dimensioni o sono addirittura fallite a causa della crisi economica globale. Ma New Science si è espansa. Come ci siete riusciti? L'industria biotecnologica e quella degli integratori nutrizionali nel complesso hanno sofferto durante la crisi economica. Praticamente tutti hanno subito delle perdite. E per quanto mi piacerebbe prendermi il merito della nostra crescita a due cifre ogni anno, la verità è che i nostri partner commerciali globali, la nostra famiglia Cell Food, sono i veri responsabili di questo incredibile andamento di crescita che continuiamo a godere. Quindi sono loro a meritare tutti i riconoscimenti. In particolare l'Europa e soprattutto l'Italia ha fatto più di chiunque altro per promuovere la causa di Cell Food. Il nostro partner italiano Epi Nutracell nella figura di Giorgio Terziani ha fatto di tutto, dall'organizzazione di simposi medici alla ricerca medica, fino a sponsorizzare atleti professionisti e amatoriali, inclusi campioni olimpici. Senza questi sforzi Cell Food non sarebbe dove è oggi e ne siamo davvero grati. La vostra crescita, senza ostacoli o sfide, sembra quasi impossibile. Come gestite la situazione? Abbiamo ancora delle sfide. La nostra sfida più grande è ancora rappresentata dai prodotti imitativi e contraffatti. Facciamo molto per combattere questo fenomeno. Di recente abbiamo acquistato un impianto per la produzione dei flaconi ed ora li produciamo internamente per tutti i prodotti Cell Food. Abbiamo riprogettato ogni stampo in modo che su ognuno sia impresso il marchio Cell Food, aiutando così i consumatori a verificare l'autenticità. Abbiamo investito molto tempo e denaro nel perseguire questi criminali e continueremo a farlo. I leader dell'industria della salute dicono che l'imitazione è la forma più sincera di adulazione. Ma non è così. In realtà è estremamente pericolosa. Spesso il pubblico viene ingannato nell'acquistare un prodotto inferiore o contraffatto, mettendo a rischio la propria salute senza nemmeno saperlo. Ancora una volta la ringrazio, dottor Negrete, per averci concesso questo raro sguardo all'interno della New Science Corporation e per averci mostrato i vantaggi di Cell Food e il supporto fornito dai vostri partner. Cell Food è prodotto esclusivamente dalla New Science Corporation, registrata FDA e certificata GMP, con sede qui a Los Angeles. Da Kit Sammy è tutto. Grazie a tutti.